Buongiorno e grazie per essere venuti a trovarci qui all'Animal Discount. L'Animal Discount oramai è da parecchi anni una realtà nel VCO. Abbiamo tre grossi negozi, un negozio a Casale Cortecerro, un negozio a Verbagna, Intra e l'altro appunto qui a Villa Dossola dove ci troviamo ora. Voi potete, come già probabilmente molti di voi conoscono, abbiamo tutta una serie di prodotti per i nostri animali che vanno dal gatto al cane, ai roditori, agli uccellini, potete trovare qualsiasi cosa. Inoltre da oramai un paio di mesi sono presente io, mi chiamo Fabio Barbaglia e sono qui presente per poter aiutarvi nella scelta dei vostri articoli e soprattutto indirizzarvi per quello che riguarda l'alimentazione e il benessere animale. Quindi io sono ad esempio in questo negozio nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno e mercoledì tutto il giorno e ripeto, sono pronto ad aiutarvi nella scelta dei prodotti che più sono utili per i vostri animali. In questo momento abbiamo parecchie offerte, sia per quanto riguarda la Mangimistica, dove praticamente abbiamo quasi tutte le marche presenti in commercio e abbiamo anche una serie di offerte per quanto riguarda attrezzature e trasportini in questo momento utili per le prossime vacanze estive e cucce di vario tipo. Inoltre da siamo anche in grado, sempre grazie al mio aiuto, di potervi fornire anche l'animale, cosa che fino a poco tempo fa in questo negozio era abbastanza difficile trovare, quindi siamo in grado di fornirvi uccellini, canarini, pappagallini, criceti e tutti i tipi di animali che possono vivere in casa con noi. Dicevo, importante è il benessere animale. Prima di acquistare un cane è sempre opportuno sapere qual è la caratteristica della razza, perché ci sono razze più adatte alla vita d'appartamento e razze più adatte a vivere all'aperto. Sono in grado, appunto, conoscendo ormai le razze da parecchi anni, allevando cani da anni, di potervi consigliare anche su queste cose, che penso sia un aspetto importante. Dicevo che una cosa molto importante è la scelta del mangime per i nostri animali. Esistono mangimi di diverse tipologie, non sempre il costo è un elemento importante per poter scegliere il mangime, quindi posso aiutarvi spiegandovi, per come mi è possibile, la lettura di un'etichetta dei mangimi presenti nei nostri negozi ed aiutarvi nella scelta di un mangime che più si adatta alle esigenze fisiologiche del vostro animale. Poi, chiaramente, i nostri animali soffrono di varie patologie, ma per quello comunque il veterinario vi indicherà il mangime dieta più adatto e quindi io sarò in grado poi di spiegarvi come fare a somministrarlo e il perché va somministrato. È in arrivo la stagione bella, quindi è importante prevenire alcune parassitosi dei vostri animali, parassitosi esterne e abbiamo tutta una serie di prodotti che fanno da prevenzione all'infestazione innanzitutto di pulce e zecche che viene fatto mensilmente. E poi ci sono anche altre patologie un po' più gravi, tipo lesmagnosi e filariosi cardiopolmonare per la quale però il veterinario vi darà indicazioni e noi abbiamo i prodotti per utilizzarlo. Per quanto riguarda i grossi animali abbiamo da tempo, e attualmente lo stiamo rifornendo, abbiamo anche un settore equitazione. Quindi qui ci sono tanti amici che hanno cavalli nel circondario, privati che hanno i cavalli e quindi siamo in grado di avere a disposizione alcune, più che altro, le attrazzature base come testiere, capezze, curapiedi, grasso per zoccoli e questo e quant'altro. Un aspetto importante che volevo sottolineare, abbiamo anche da circa due mesi aperto una toilettatura nel negozio di Verbagna Intri in Corso Cairoli, dove c'è una persona che da anni è esperto toilettatore, non riesce anche a preparare cani per le esposizioni, quindi è un aspetto importante. Il cane chiaramente molti di voi avranno cura, lo laveranno a casa, ma il fatto di toilettare il cane presso un toilettatore almeno due volte all'anno in occasione della muta è importante perché fa un lavoro molto più approfondito ed evita di farvi trovare pelo in ogni dove. Poi ogni cane ha un tipo di toilettatura che bisogna conoscere, che va dalla tosatura, allo stripping, al taglio a forbice, tutte cose di cui siamo in grado di aiutarvi. Sempre a vostra disposizione potete trovare tutta una serie di trasportini, trasportini o gabbie per il trasporto e il contenimento degli animali, utili soprattutto nel periodo estivo quando iniziano le vacanze anche per noi. Quindi siamo in grado di fornirvi delle gabbie in metallo a dei trasportini chiusi adatti al trasporto aereo. Ricordatevi che per ogni viaggio ogni compagnia aerea ha le sue indicazioni per quanto riguarda la gabbia, quindi non acquistate mai una gabbia senza prima non aver contattato la compagnia aerea o la compagnia navale con la quale viaggiate. Per quanto riguarda i piccoli animali abbiamo tutta una serie di attrezzature adatte ad esempio per gli uccellini, quindi con l'arrivo della primavera abbiamo a disposizione gabbie da esterno, vogliere, molto belle e ogni tipo di uccellino ha la sua gabbia, quindi saremo in grado di fornirvi delle indicazioni in merito a questo. Abbiamo tutta una serie di mangimi, pastoni, sia per uccelli da gabbia che anche durante l'inverno ad esempio abbiamo comunque avuto il settore di alimentazione relativa agli animali selvatici, dalle palle di grasso ai vari alimenti necessari, sia ai granivori che agli insettivori. Dicevo abbiamo tutta una serie di attrezzature adatte all'allevamento dell'uccello da gabbia, importante è anche il settore dei roditori dove abbiamo delle bellissime gabbie da esterno e gabbie che invece più utili per quanto riguarda l'appartamento, gabbie sia per criceti che per scoiattoli e cavie delle varie dimensioni. Inoltre abbiamo, ecco ricordavo che abbiamo tutta una serie di animali carini d'appartamento che vanno dal cincillà al gerbillo, molto più adatto del criceto per quanto riguarda i bambini ad esempio che amano avere degli animaletti. Il gerbillo è poco conosciuto ma è molto più adatto del criceto in quanto può vivere in coppia ed inoltre non è mordace.